che remboursin ci fa sognare di nuovo condivisione a per i fan di nuovi post riguardo a loves intero o bussa alla mia porta il bell'attore che remboursin che è stato lontano dagli schermi per un po' ha entusiasmato i suoi fan con la condivisione che ha fatto sul suo account dei social media l'ultimo post di karen boursin che ha preso parte alla serie di commedie romantiche sam calcapimi trasmessa sugli schermi fox tv e poi passata in italia su canale 5 e che gli ha portato tantissimi ascolti è che non ha detto sì a nessun progetto dopo la conclusione di questa speciale serie ha particolarmente emozionato i fan di sam calcapimi questa sua tranquillità nel cercare nuovi progetti ma i suoi fan attendono molto il suo nuovo progetto che ha guadagnato una vasta base di fan in tutto il mondo dopo appunto il successo di sen calcapimi in cui ha condiviso i ruoli principali con la sua ex fidanzata handelersel è molto atteso dai suoi fan la serie sen calcapimi è stata una grande esperienza per bursin che era stato coinvolto in serie più intense e adrenaliniche prima di sen calcapimi in questa serie karen bursin aveva una perfetta intesa con l'attrice protagonista handelersel e riuscì anche a fare il suo debutto come attore in questo dramma estivo sebbene karen bursin dichiare di voler fare altre sopa all'estero i suoi fan non sono disposti a lasciarlo andare facilmente anche l'ultima condivisione di bursin che si adatta molto bene agli schermi ed è il volto ricercato dalla tv è stata percepita come il segnale di un nuovo progetto karen bursin ha usato l'espressione exited eccitato nel post che ha condiviso sul suo account di social media l'altro giorno mentre mi chiedevo se questo post fosse correlato al nuovo progetto mi è venuta in mente l'affermazione di karen bursin avrò prestissimo nuove sorprese per voi e le sorprese per te le potrai vedere continuando a seguirci sul nostro canale ed iscrivendoti cliccando sulla campanellina grazie a tutti